Che rivolgiamo all'avvocato Nino Cascio, uniti da un solo sentimento di doverosa riconoscenza, l'estremo saluto nella sua ultima visita all'ippodromo della Favolina, in quello che è stato per oltre 50 anni il suo teatro, la sua casa, il suo regno, la sua grande famiglia. Ogni angolo, ogni pietra, ogni albero sembrano ancora oggi parlare di lui e ora che non c'è più sembrano ancora più testimoniare la sua presenza perché nulla in tutto il tempo che lui ha gestito l'ippodromo è stato trascurato o lasciato a casa. Il suo grande merito è stato quello di aver saputo gestire con grande acune, con spiccata una maggiorità, con semplicità, creando un rapporto di estrema collaborazione con le categorie locali, circondandosi di un gruppo di collaboratori cui ha trasmesso, oltre alla sua onestà, le sue capacità, il suo fiuto e l'ungimiranza negli affari. Palermo Ippica, nell'esaltazione del reggioso momento, si stringe compatta accanto ai familiari e scrivendo loro le più sentite condoglianze e nella preghiera, alzando lo sguardo al cielo, oltre che con il cuore, succella l'estremo cognato con un sentito l'eterno riposo. Doni a te, oh Signore, esplenda a te la luce perpetua. Riposa in pace. Amen. Applausi 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 Applausi